Come ricette cosmetiche personalizzate? Per avere un cosmetico adatto occorre fare lo screening dove si vede se la pelle è disidratata, si vedono le imperfezioni che ha la pelle, dopodiché una volta individuato le imperfezioni si opera per andare a contrastare questi nettetismi e per andarli a ridurre o farli scomparire. Partiamo da una crema base già ricca di per sé che fa un laboratorio autorizzato eccetera, dopodiché vengono aggiunti a seconda, ritorniamo sempre allo screening, gli ingredienti attivi per la problematica della pelle. La cosmetologia normale anche se di alta gamma così fa una crema che è per tutte le pelli, mentre qua è una cosa specifica, la tua pelle non è uguale alla pelle dell'altra signora, tu magari hai qualche imperfezione, l'altra signora ha un'altra imperfezione. Qua si va a fare proprio la crema diciamo su misura, si fa un vestito, è adattissimo a tutte le età perché già dall'età giovanile si notano alcune imperfezioni e poi col proseguire degli anni le imperfezioni purtroppo aumentano però cerchiamo di andarle a correggere o eliminarle. Grazie a tutti!